La roba con i pomodorini fresco, poi noi mettiamo la roba abbondante, vari tipi, poi se anche la bicante ce l'abbiamo di fare un gusto nuovo per la gente, così abbiamo fatto un po' di sfida, la gente abbiamo un bicante un po' esagerato, la gente comincia a sfidare le pizza con il bicante. La luna è cambiata, umore, l'amore rimane sospeso tra voi, ricordi di un giorno di merda che ieri tornarono a dormire, aspettavano l'infarto, non credo che alcun lo potrebbe portare. I giorni di mio compleanno per prima cosa diciamo di finire tutta la pasta che avevano in eccazza, i miei amici mangiarono in fretta e lo telefono non mi lasciarono nemmeno un boccone, non mi lasciarono nemmeno un boccone. Asciugare l'insalata che non era stata ancora condita, lasciucare l'aggirai, lasciucare l'aggirai, lasciucare l'aggirai, lasciucare l'aggirai, lasciucare l'aggirai, con le dita. Ci pensi dentro tutto quello che era rimasto e mi chiesi cos'era quella bianca sporca di voleria, e non sapevo di niente, faceva schifo anche al cazzo. E non sapevo cos'era, e non sapevo di niente, vorremmo mangiare lo stesso perché avevo fame chimica anche di quella bianca sporca di voleria. Sette e mezzo e pianto che già la luna è cambiata, umore e l'amore rimane sospeso tra bui ricordi di il giorno di merda che ieri è tornato al mio, aspettano l'infarto, non credo a qualcuno potrebbe far basta. A un certo punto mi accorsi Non ho mai stato felice, e mi ricordo contro i capi di mezzomondo erano usati di qualche passete, troppi tossi le scarpe e un mirai, il loro sanzucandone, sulle stelle e gli archi di un inutile pavimento, ma qui ne è tutto. Pensando a quegli uomini verdi che arrivano dall'alto, loro dicono dal nord, qualcuno dice dall'alto, si credono marziani, ma alla fine sono solo ignorantoni, questi muri verdi che invadono Roma, Roma che gli fa schifo però poi quando arrivano non gli piace, Roma che gli fa schifo però poi alla fine, e vabbè però la fine era davvero lo stesso. Pensando a questi uomini che si credono altolocati, a questi uomini che pensano di venire da un posto letto, che si sentono nordici ma sono solo i terroni d'Europa, questi uomini che fosse per loro farebbero marcire Napoli e tutta la provincia piena di immondizie, perché loro le immondizie non la vogliono, questi uomini che invece negli anni non hanno fatto altro con le loro cazzo di fabbriche e con le loro scorie di riempire i nostri bellissimi prati, con l'ausilio della camorra e della mafia, che non mancano mai questi uomini di merda pensando a tutto questo, domina e ciai a vomitare. Buongiorno, buongiorno. 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 Grazie a tutti.